Allora, Luciano Randaccio dice che ha estorto questo sconto del 50% sui traghetti mobile lines per i velisti della Sardegna. Non l'ha estorto, da parte mia sono un velista, bisogna promuovere la vela in Sardegna, per cui con Luciano stiamo mettendo su già operativo un accordo attraverso il quale praticamente tutti i velisti sardi che si regolano dalla Sardegna in continente per delle regate hanno uno sconto sulle navi mobile del 50%. Allora, andiamo subito al solo. Io domani vado in un'agenzia che deve fare il biglietto per mio figlio che deve fare la Coppa Primavera. Cosa devo fare? Tu devi andare in un'agenzia e devi dire che devo fare la Coppa Primavera, ho iscritto la mia barca, gli fai vedere l'iscrizione e le agenzie ti danno il 50% di sconto. Tutte le agenzie, quindi in automatico così? C'è stato un comunicato stampa, è chiaro che meglio sarebbe farlo direttamente su mobile, ma anche le agenzie di viaggio sono informate. Abbiamo fatto un comunicato stampa, bisogna ribadire di questa promozione alle agenzie di viaggio in modo che la applicano. Cioè noi che documenti dobbiamo portare in agenzia? No, non dobbiamo portare niente, se non altro l'iscrizione della regata. L'iscrizione della regata, perfetto. Insomma è buono, ma non è che poi questo, siccome in tempi passati c'è stata una specie di accordo così per la classe G24. Sì, per il mondiale, solo per il mondiale c'era questo accordo. Ecco, praticamente però alla fine dei nostri ragazzi nessuno ne ha usufruito perché dice che alla fine conveniva fare il biglietto su internet, sfruttando le offerte via internet rispetto allo sconto applicato con questa convenzione. Sì, è praticamente la stessa cosa, nel senso che anche attraverso internet si potrà fare il biglietto, però in quel caso bisogna chiamare il centro di produzione e specificare che si va in continente per la regata, perché internet non lo sa, bisogna dirlo. Certo, certo. Da quando è che è operativo questo sconto? E' già operativo, è già operativo. L'abbiamo comunicato a stampa tre giorni fa con Luciano. E io che ho fatto il biglietto per andare agli europei hobbycat due settimane fa? Eh, sei un po' fregato, ma ti do una mano io, non ti preoccupare.